Perito piuttosto intenso per i Panta, lavoro sul prossimo album di Inediti, venite da un giro fatto in Inghilterra per lavorare in studi molto blasonati e rinomati, insomma che cosa si può dire di questa esperienza? Dunque sì, siamo reduci da due settimane veramente splendide, iniziate appunto tra i Battery Studios e gli Abiro Studios a Londra, veramente due templi soprattutto gli Abiro Studios per chi fa il nostro genere, insomma il rock e l'indie rock di stampo più britannico potremmo dire, è stato veramente come entrare in un museo per certi versi, ci siamo sentiti un po' nani sulle spalle dei giganti potremmo dire e al loro modo tutti e due gli studi insomma ci hanno dato però qualcosa, veramente quel valore aggiunto sia nelle registrazioni sia anche proprio nell'ispirazione dei pezzi, quindi effettivamente come dire il nucleo del disco è venuto fuori da questi posti. Ecco quindi possiamo dire che luoghi così agevolano maggiormente la lavorazione, magari permettono di mettere più a fuoco certi brani, nel caso vostro è andata un po' così? Sì, sicuramente sì, sia per un punto di vista diciamo proprio professionale, nel senso ci hanno messo veramente a disposizione dei tecnici che ci hanno trattato proprio come dire con i quanti da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista proprio creativo, perché chiaramente quando magari ti ritrovi anche solo a fare una pausa caffè nella cantina dentro gli Abiro Studios dove ci sono le foto dei Beatles che pranzavano lì o tipo il McCartney con il bassoio e dentro magari quel giardinetto e vedi quegli alberi, quelle cose, ci sono passati Pink Floyd, gli Oasis, insomma tutti i nostri miti, effettivamente ti senti di dover dare quel qualcosa in più che era quello che effettivamente volevamo mettere proprio nei pezzi? Dopo essere stati nel Regno Unito avete fatto anche un giro di concerti partendo prima dall'Italia, però poi siete ritornati fuori, siete stati in Francia, a Marsiglia e a Aix-en-Provence, un commento insomma su queste uscite che avete fatto, uscite live ovviamente? Sono stati dei giorni bellissimi anche quelli perché io pensavo che dopo l'Inghilterra il livello fosse talmente alto che dicevo vabbè insomma l'altro saranno così, dei giri un po' più tranquilli, invece devo dire che la Provenza non c'era mai stato pur avendo girato la Francia spesso, ma ha dato effettivamente delle good vibes, delle belle vibrazioni anche a livello di ispirazione e lì poi la cosa bella veramente era che promotore di tutto era stata l'università che è dislocata tra Marsiglia e San Provence e quindi c'era sia questo aspetto più culturale, letterario e l'aspetto invece più musicale e artistico che veramente dialogavano in una maniera molto virtuosa e soprattutto sono riusciti a, che è una cosa magari un po' più difficile da fare qui in Italia, a fare insieme all'università comunque un coinvolgimento di tanti studenti quindi anche giovani in maniera trasversale, perciò veramente c'era un pubblico e comunque è stato molto accogliente, molto caloroso nei nostri confronti e che andava veramente dai ventenni a sessantenni e questa è una cosa molto molto bella e veramente me la porterò dentro. A proposito dei concerti ora ci sono un paio di appuntamenti interessanti a Roma, il 28 di aprile prima e poi il primo maggio e cosa si può dire in più rispetto a queste date? Allora il 28 aprile saremo al Teatro Centrale, veramente un bellissimo avenue proprio nel centro di Roma insieme agli iFlying Band per una Oasis Mania Night quindi a tema Brit in cui diciamo noi cureremo la parte originale, di musica originale e loro poi invece insomma la parte di tribute e poi ci sarà un DJ set insomma sarà secondo me una serata veramente veramente bella e dopodiché questo proprio insomma ce l'hanno annunciato ieri, il primo maggio saremo per la festa del primo maggio all'Ippodromo delle Capannelle live insieme ad altri artisti e quindi essendo un posto in cui negli anni abbiamo visto alcuni dei nostri midi, dei nostri artisti preferiti, suonarci per la prima volta ci fa insomma veramente piacere. In Italia non è illegale, stasera mi amore cambiamo canale